denaro reiki e solitudine perché reiki ad offerta libera il denaro certamente ci permette di affrontare la vita con un minor numero di problemi ma come tutte le medaglie ha il proprio rovescio accresce la solitudine diventare indipendenti ed autonomi ci fa sentire di bastare a noi stessi di non aver bisogno di nessuno a rischio di diminuzione del nostro grado di solidarietà è per tale ragione che i paesi più poveri sono anche i paesi in cui non è percepito come nei paesi più agiati un grado elevato di solitudine la povertà alimenta la necessità di rimanere uniti la ricchezza aumenta il distacco ponendo barriere e confini esteriori ed interiori tratto dal corso reiki ad offerta libera dello studio gaiatrid di monza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti